Primo impegno in trasferta per il Gela di Pippo Romano. La squadra Biancazzurra domani farà visita al Troina. Si tratta del primo di una lunga serie di derby previsti quest'anno in Serie D. E la gara di domani presenta tantissime insidie. Si giocherà davanti ad un folto pubblico di fedennese e entusiasta per le prestazioni della propria squadra. A tal proposito, dicono fonti ben informate, si registrerà il tutto esaurito. E si giocherà contro una squadra che reduce da bene tre vittorie consecutive in trasferta, due in Coppa Italia ed una domenica scorsa in campionato. Un test di notevole spessore dunque per la compagine tanto cara al presidente Angelo Mendola. Non ci saranno nello schiacchiere Biancazzurro i centrocampisti Bonafini e Cosenza. Debutto in campionato invece per l'attaccante Gallonne che ha superato i problemi fisici che lo avevano interessato nelle ultime settimane. Confermata la presenza del jolly Giuliano Alma, autore domenica scorsa nel 4-0 con la Roccella di un gol di pregevole fattura. A questo mi fa assolutamente piacere che do un contributo per la vittoria finale, però io sono a disposizione e spero di dare il più possibile alla causa della calce. Ma ti aspettavi un 4-0 così roboante contro la Roccella? Sicuramente mi aspettavo una grande prova perché in settimana abbiamo lavorato benissimo, avevamo come unico obiettivo i tre punti e ci siamo andati a prendere fin da subito. Ora però c'è una brutta gatta da pelare, andrete in trasferta a Troino contro una squadra che reduce ben tre vittorie consecutive in trasferta. Sicuramente sarà una partita alquanto ossica perché è un buon avversario, infatti noi abbiamo già archiviato la partita di domenica e ci stiamo preparando per affrontare al meglio il Troino. I quadri tecnici e dirigenziari Biancazzurri nelle ultime ore hanno ricevuto la benedizione di Don Vincenzo Di Bella. Il parroco si è intrattenuto con i giocatori e lo staff della squadra ai quali ha inoltrato il messaggio ben augurante per il proseguio del campionato. E alla fine un brindisi per tutti. Cosa ti senti di dire ancora una volta ai tifosi biancazzurri che non fanno mai mancare il loro affetto? Di continuare a seguirci, di continuare a sostenerci e noi cercheremo di dare maggiori felicità e maggiori soddisfazioni possibili. Per Troino ci condivideremo anche di un 1-0 proprio risicato al novantesimo? Perché sia nei tre punti va bene anche quello.